Rinvio giudizio per l'ex dirigente ai lavori pubblici al comune di Pescara Fabrizio Trisi e altri otto personaggi convolti nell'inchiesta sullo scandalo degli appalti con presunto giro di tangenti ma anche di cocaina tra dirigenti e imprenditori. E quanto chiederanno i sostituti procuratori, Anna Benigni e Luca Scerretta, nell'udienza preliminare che il GIP dovrà fissare a giorni? Si era parlato di probabili riti alternativi ma al momento sono esclusi. Resta saldo l'impianto accusatorio nei confronti dell'ex dirigente ai lavori pubblici alla comune di Pescara Fabrizio Trisi dei due dipendenti comunali Ishairo Ricordi e Gianluca Centorame, dell'imprenditore Vincenzo De Leonibus dei due presunti fornitori di cocaina Vincenzo Cerelli e Pinomaro Marco Tullio e di Tommaso Catani, figlio del sindaco di Picciano. Sullo sfondo anche la vicenda del tutto marginale del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e anche gli indagato per una cena elettorale alla vigilia delle politiche del 2022. I reati contestati vanno a vario titolo dalle accuse di turbativa d'asta, corruzione e finanziamento illecito dei partiti, assenteismo e illecito amministrativo. Secondo quanto ricostruito dalla pubblica accusa, Trisi avrebbe affidato la ditta edile di De Leonibus una serie di appalti in cambio anche di cocaina consumata in un locale in uso a Trisi e denominata Tana delle Tigri, da qui il nome dell'operazione. All'attenzione della Procura anche la turbativa della gara da oltre 3 milioni di euro dell'ACA relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti interne dei comuni delle zone litorane e metropolitana mentre per quanto riguarda il coinvolgimento di Catani sarebbe stato favorito per l'assunzione a Pescara Energia la cui commissione d'esame era preseduta dallo stesso Trisi. In sostanza, sempre secondo l'accusa, De Leonibus avrebbe fatto il pieno di affidamenti diretti e insomma urgenza di lavori e forniture pubbliche per il Comune di Pescara per importi monetari superiori complessivamente a 100.000 euro tra il 2020 e il 2023.